Giorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nerd Show Movie Ita Oggi l'angolo del fumetto parleremo del volume numero 13 di Death Note Volume molto bello che costa anche così così, 6,50€ ma dopo vi farò vedere meglio Volume che ho finito di leggere ma in particolare ci sono delle curiosità Tipo se tante cose che non sapevi su Death Note, che personaggio sai di Death Note e cose varie Come potete vedere anche da questo video ci sono abbastanza pagine, è molto bello perché è metà nero e bianco Quindi alcune pagine sono nere, alcune pagine sono bianche, come potete vedere è anche un bello manga grande La copertina è bellissima, che è un light EL, la mila in mezzo Come potete vedere il costo è 6,50€, ci sono anche delle mini storie L all'interno per chi fosse interessato C'è anche una storia inedita del manga che è tutto un altro mondo E per finire anche chi, quali personaggio sai di Death Note Un'altra descrizione della copertina in sé Come ho detto c'è light EL dalle due parti, c'è la mila in mezzo e sopra c'è pure Ryuk Questa copertina è molto fatta bene e strana, è diverso degli altri volumi, è fatta anche di un altro materiale Edito da Planet Manga, per il normale costo come ho detto ormai anche tre volte di 6,50€ È uno Shonen and Jump, quindi è un manga per ragazzi, anche se molti non lo vogliono ammettere È un manga che consiglio soprattutto a tutti i collezionisti di manga, sia di Death Note, ma anche altre cose Per chi volesse leggere altro, logicamente è un volume singolo, quindi anche se non fate tutta la collezione di Death Note Lo potete comprare allo stesso, perché diciamo che non serve per forza sapere il racconto Anzi sì, serve, serve, sì, serve, però così ecco Vi lascio qua sotto il link in descrizione se anche voi lo volete comprare su Amazon A proposito di Amazon, sabato uscirà un mega video unboxing, quindi non perdetevelo Vi ho già spoilerato troppo e quindi noi ci vediamo domani Anche se forse non uscirà il salutino nerd Ragazzi mi dispiace molto, solo che come sapete sono stato in quarantena e non ce l'ho fatta a registrare E quindi domani uscirà un altro video Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto E noi ci vediamo ad un prossimo video, bye!